Sono comode, sono decisamente pratiche quando si è fuori casa, per il cambio del nostro bambino, per pulirlo in condizioni non ottimali. Ma sono altrettanto sicure? Ci riferiamo alle salviette per il cambio, che sono l'oggetto dell'inchiesta di oggi di genitori e figli e su di loro un'ombra abbastanza pesante, quella del fenossi etanolo. Ce ne occupiamo con la nostra scheda e poi, per i miti alimentari, oggi si parla di formaggi. Quanto durano i formaggi? È meglio conservarli nella pellicola. E se cominciamo a vedere delle muffe, bisogna buttarli tutti? Il professore Alberto Ritieni ci chiarirà le idee. Non c'è dubbio che siano comode, ma quanto a sicurezza per la pelle dei nostri bambini, le salviette umidificate per il cambio lasciano un po' a desiderare. Lo ha dimostrato anche un test del salvagente su otto prodotti tra i più venduti sul mercato. Tra conservanti, silicone e profumi sono ancora tanti i marchi che dimostrano di non aver tanto a cuore la salute dei nostri bimbi. Rispetto a qualche anno fa, a fare il salto di qualità più importante è la Agis, che nelle sue salviette Unistar ha rinunciato ai parabeni, al metilisotiazolinone, un conservante potenzialmente allergizzante, e al tetrasodium EDTA. Tra gli esempi positivi va citata anche Pampers, che nelle salviette Sole e Luna ha detto addio al fenossi etanolo, all'associazione tra sodio benzoato e acido citrico, e ai siliconi. Hanno migliorato la loro composizione anche Lidl e Fissan. Purtroppo, però, nessuna delle due marche ha fatto la scelta coraggiosa di bandire il fenossi etanolo, un conservante potenzialmente perturbatore endocrino. In questi prodotti l'importanza dei conservanti è tutt'altro che banale, dato che servono a evitare lo sviluppo di muffe e batteri nel liquido di cui sono imbevute. Ma è arrivato il momento che le aziende prendano sul serio gli allarmi della comunità scientifica, tanto più che esistono alternative ad additivi tanto sospetti. Un po' più veniali sono i profumi e i siliconi, che abbiamo trovato nelle salviettine, un mix di sostanze di cui non possiamo sottovalutare gli effetti negativi per la pelle dei più piccoli, dato che provocano dermatiti e soprattutto indeboliscono la barriera lipidica. A tutto ciò si aggiungono i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, secondo cui l'esposizione della pelle a saponi che non vengono sciacquati, proprio come le salviette, è responsabile, insieme ad altri fattori ambientali e non, dell'incremento delle allergie alimentari. Già nel 2012, l'Agenzia francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari aveva raccomandato di non utilizzare il fenossietanolo nei prodotti destinati a venire a contatto con i genitali dei neonati e di limitare la concentrazione allo 0,4% negli altri cosmetici. Quattro anni dopo, nel 2016, il Comitato Scientifico Europeo per la Sicurezza dei Consumatori aveva dichiarato sicura invece una concentrazione dell'1% di fenossietanolo nei prodotti cosmetici per tutte le popolazioni, compresi i neonati. Dopo la pubblicazione di questo parere, che nei fatti sconfessava quanto sostenuto fino ad allora dalla NSM, quest'ultima aveva deciso di istituire un comitato scientifico specializzato con il compito di verificare la validità delle restrizioni poste dall'Agenzia. Lo studio ha indicato che i genitori giornalmente utilizzano in media almeno 5 cosmetici sulla pelle dei loro piccoli. Tra i prodotti più usati ci sono le salviettine, i detergenti per capelli e corpo, il latte idratante per il corpo e le creme per il fondoschiena. Lo studio ha indicato che le salviette e i prodotti che si spalmano costituiscono una parte essenziale dell'esposizione al fenossietanolo. I ricercatori hanno quindi concluso il lavoro suggerendo di mantenere le limitazioni fissate dall'Agenzia e di innalzare all'1% la concentrazione per tutti gli altri cosmetici. Tuttavia lo studio ha evidenziato un'altra cosa interessante, e cioè il legame fra l'esposizione al fenossietanolo delle donne incinte e lo sviluppo di anomalie riproduttive, ovvero un aumento del tempo necessario per concepire, cambiamenti nei livelli di diversi ormoni steroidei nel sangue del cordone umbilicale e cambiamenti nel punteggio di comprensione verbale. Per questo motivo il Comitato ha suggerito di adottare anche precauzioni per quest'altra categoria di soggetti. Avete visto che tipo di conservanti si utilizzano ancora nelle salviettine, quindi per organismi anche molto delicati? Beh, teniamolo a mente. Ora ci occupiamo di muffe e formaggi. Sono davvero da buttare i formaggi quando vediamo le prime muffe oppure possiamo solo scartarne una parte? Innanzitutto abbiamo chiesto a voi come vi orientate. Dopo la pubblicità i miti alimentari del professor Alberto Ritieni ci aiutano a far chiarezza su questi temi che ovviamente riguardano anche la nostra salute. Se trovi della muffa sul formaggio, che cosa fai? Butti tutto il formaggio o togli solo la parte ammuffita? Questa è una bella domanda. Non mi è mai capitato. Però penso che tolgo la parte ammuffita. No, assolutamente. Ci stanno tante muffe del formaggio e sono nobili, quindi basta solo tolta con un panno bagnato, raschiata con un coltellino e basta. Allora, innanzitutto vado a controllare la scadenza e poi in base a quello mi regolo se togliere soltanto la parte ammuffita o comunque posso, considerando che i latticini possono essere conservati soltanto entro un determinato periodo e quindi niente, tolgo la muffa e magari mangio il formaggio. Vi aspetto tutti i giorni su canale 21 alle 7.45, 11.30, 18.30, 19.30 a Quando c'è la salute, il programma di informazione medico-scientifica che si prende cura di voi e del vostro benessere attraverso i preziosi consigli dei nostri esperti e tante curiosità che vi aiuteranno a migliorare il vostro stile di vita. Mi raccomando, non mancate! Quando vedo della muffa sul formaggio, lo butto perché so che fa male alla salute. Vero o falso? Vero o falso in questo caso è da discriminare. Il formaggio è uno dei prodotti più a rischio da contaminazione da muffa. Le muffe sono dei microorganismi che noi abbiamo incontrato nella storia dell'uomo fin dall'antichità. In alcuni casi sono anche richiesti il gorgonzola, il roquefort, il camembert. Sono dei formaggi appositamente ricchi di muffe perché danno un sapore che chiaramente può essere utile per migliorare dei piatti. Ma ci sono anche delle muffe che producono sostanze tossiche che vengono accumulate nell'alimento in cui essi crescono. Nel caso del formaggio, può accadere che la muffa si venga a creare perché nella superficie più esterna venga a crescere questa colonia. Si forma una patina di colore verdastro, grigiastro. Basterebbe teoricamente tagliarne un centimetro. Il problema non è tagliare quel centimetro e quindi decidere di bonificare il formaggio. Ci dobbiamo porre un problema molto più importante perché la muffa sta su quel formaggio. Potrebbe essere un prodotto di scarsa qualità per cui le spore di queste muffe sono ancora presenti. Nel momento in cui tagliamo la prima fettina e abbuttiamo solo la prima parte del formaggio le spore ritroveranno le condizioni per crescere e anche nel frigorifero, dove noi pensiamo di essere assicuro, le spore si riprodurranno e avremo di nuovo muffa. Oppure nel frigorifero c'è una contaminazione. Ci sono altri prodotti ammuffiti, come ad esempio della frutta o verdure, che stanno in qualche maniera contaminando i formaggi. Il consiglio è prima di tutto di non mangiare ciò che ci sembra chiaramente ammuffito. Del resto il colore verde, proprio della muffa, che è più classico, è proprio il colore tipico che per noi rappresenta un pericolo. Se proprio è necessario, tagliamone un bel pezzo, ma consumiamolo molto rapidamente e compriamo le quantità giuste senza pensare di poter risparmiare con grandi ammontari di formaggi che poi ammuffiranno prima o poi. Il modo migliore per conservare il formaggio è avvolto nella pellicola. Vero o falso? Falso. Il formaggio che noi acquistiamo spesso nella grande distribuzione, nei supermercati, viene avvolto molto rapidamente in delle pellicole di origine plastica. Questo chiaramente è comodo per chi vende, perché in qualche modo riesce a filmare questi prodotti, li chiude, li sigilla e fa in maniera tale che all'interno non possano essere contaminati. Il formaggio di suo però ha una componente grassa, noi lo sappiamo bene, perché da punto di vista calorico il formaggio ci concede parecchie delle calorie che contiene. Cosa avviene però? Che il formaggio stesso può andare a interagire con queste pellicole. Prima di tutto le pellicole con cui vengono avvolte devono essere per uso alimentare, quindi pellicole che vengono proprio utilizzate in maniera specifica per poter entrare in contatto con prodotti che poi in qualche maniera mangeremo. Ma questo può essere sufficiente per trasportare il formaggio fino a casa, dopodiché noi quando arriveremo a casa dovremo avere l'accortenza di togliere la pellicola, prendere il formaggio e conservarlo in quei recipienti che una volta erano abbastanza comuni, che erano i portaformaggio, ovvero sia dei taglieri o delle strutture dove il formaggio veniva appoggiato su del vetro, coperto per impedire che in qualche maniera si contaminasse, perché il formaggio acquisisce anche gli odori che ci sono intorno, essendo una matrice grassa, quindi sente tutto quello che c'è nel frigorifero, e poi se ne usava la quantità necessaria. La cosa importante è che se noi ne compriamo una gran quantità, certamente questo non è fattibile, quindi il consiglio è compriamo quello che serve, consumiamolo nei tempi giusti ed evitiamo di conservarlo nelle pellicole di plastica. Per oggi è tutto, noi torniamo domani con un'inchiesta del salvagente da non perdere, i veleni della camorra, pesticidi illegali, una fabbrica gestita dalla criminalità organizzata che arriva a inquinare la frutta e verdura che noi compriamo. Non abbandonateci, ci vediamo domani. Bricofer, la più grande catena italiana del fai da te.